La carambola è l'auto che come una scheggia impazzita piomba sulla siepe che delimita il giardino di un'abitazione. L'incidente è spettacolare questa mattina in via Sartorio ad Abano Terme. Il conducente è rimasto ferito, ha perso il controllo della vettura ed ha terminato la corsa sopra i contatori del gas. È stato così necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista è stato portato in ospedale. Il personale dell'autogru, fatta arrivare dalla centrale di Padova, ha rimosso la vettura dalla delicata posizione, mentre altri operatori verificavano eventuali fughe di gas.